Consiglio straordinario urgente per il consorzio della bonifica retina. Convocarlo il presidente Adriano Tarani per affrontare la gravissima situazione in cui ormai da oltre sette mesi versa lente. Ci troviamo in un momento di impasse quasi totale. I dipendenti non percepiscono più lo stipendio regolarmente d'agosto. Siamo riusciti a pagare loro solo il 50% di quello di dicembre e il mese di gennaio ha dichiarato Tarani e non è ipotizzabile che la politica e la regione non diano risposte e non intervengano per sanare questa situazione gravissima che lede anche i diritti dei lavoratori e la dignità dei capi famiglia monoreddito. Non di minore importanza poi il riflesso che la mancanza di disponibilità economica sulla cittadinanza tutta. Con l'arrivo della primavera, ha continuato Tarani, le attività dovrebbero subire un'impennata ma le scarse riserve di gasolio non ci permetteranno di condurre quei lavori di manutenzione ordinaria il tutto a discapito degli agricoltori e dei residenti che ricadono nel territorio di competenza del Consorzio. Al Consiglio sono stati chiamati a partecipare anche l'assessore regionale all'ambiente Fabio Refrigeri, il consigliere regionale Daniele Mitolo e i sindaci dei nove comuni del Consorzio.